Gentili telespettatori, buona giornata. Non è ancora stato presentato, ma il programma di Giorgia Meloni si delinea giorno dopo giorno attraverso le sue parole. Propone la fideiussione per le aziende degli extracomunitari a garanzia delle tasse. Dice, intervistata dallo spettator, io sto con i conservatori, se fossi inglese sarei una Tory. Ancora così, lei che è sempre più candidata alla premiership, anche a Senteire gli alleati attribuiscono percentuali molto alte a Fratelli d'Italia. Fa un'intervista a questo settimanale inglese, The Spectator, cioè lo spettatore. Leader di un partito si definisce conservatore e scandisce quando sono qualcosa io lo dichiaro, io non mi nascondo. Se fossi una nostalgica del ventennio direi che lo sono. Non ho mai parlato di questo, invece perché parlo e dico che non sono quello che gli altri pensano che io sia. Ma queste sono parole per gli ambienti internazionali, perché la guardano ancora con sospetto. Ma i voti vanno presi in casa. E dunque ecco che una settimana dall'apertura ufficiale della campagna elettorale, che terrà il suo primo comizio ad Ancona il 23 di agosto, poi toccherà a tutti i territori d'Italia. Si rivolge così agli elettori. Lo fa parlando a Radio 24. Parla di temi macroeconomici. Fra i primi annuncia che la sua politica non sarà certo improntata al liberismo che prende tutto quello che c'è. Anzi, il golden power va esteso. Fu fatto duramente durante la pandemia su proposta di Fratelli d'Italia e del governo Conte. Io sono per la difesa delle nostre produzioni strategiche, dei nostri marchi, delle nostre infrastrutture strategiche. Ci sono strutture che non si possono mettere in mano i privati, tantomeno se stranieri. Tra questa c'è sicuramente quella della rete. E parlando di TIM spiega che la rete appunto deve essere di proprietà pubblica, non verticalmente integrata. Quindi il punto è scorporare la proprietà della rete, che secondo me non può essere privata come non lo è da nessuna parte. Poi c'è una proposta molto concreta che già porta delle polemiche. Il fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel commercio, del turismo, nei servizi, nella manifattura. Ecco, dice, premettendo più il gioco dell'apri e chiudi fatto soprattutto dagli extracomunitari, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell'illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro. Per riaprire magari con un altro nome. Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori, Unione Europea, prima di aprire la serranda dovrà presentare una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse. E poi parla delle pensioni minime che dovranno essere alzate. I fondi vanno trovati in un paese che spende 110 miliardi l'anno in bonus inutili e che spende fino a 780 euro di reddito di cittadinanza per perfettamente abili al lavoro e dà 270 euro ai pensionati. E dunque torna al sussidio. Mi vanto che Fratelli d'Italia sia stato l'unico partito a non votarlo. Uno Stato giusto non mette tutte le persone sullo stesso piano. Distingue chi non può da chi non vuole lavorare. Diverso l'approccio sul salario minimo. Non è una soluzione, ma uno specchietto per le allodole. I salari vanno aumentati, ma la gran parte dei lavoratori ha un contratto nazionale. Quasi tutti i contratti nazionali prevedono una paga minima. Bisogna intervenire invece sul cuneo fiscale, tagliare le tasse sul lavoro, dice la Meloni. E per quanto riguarda lo stop all'immigrazione illegale, dice che siamo pronti a difendere i confini italiani con un'operazione concordata con l'Europa. Quindi un'operazione a guida europea, perché il blocco navale, anche se la parola sembra chissà che cosa, è un'azione concordata con i paesi di partenza. Quindi il blocco navale è stato consigliato dall'Unione Europea, quindi una proposta che arriva direttamente dall'Unione Europea. Da che ne dica la sinistra, che è una cosa irrealizzabile, mostruosa, in realtà è una bufala. La sinistra, la sua campagna elettorale è contrastare il centro-destra. Quindi una sinistra che non è che si basa su dei programmi, si basa sul contrasto agli altri che hanno invece un programma. E allora qualsiasi cosa c'è nel programma degli altri, quelli cattivi, deve essere contrastato raccontando balle. Come ad esempio la sinistra in questi giorni sta raccontando la storia che il blocco navale è qualcosa di inimmaginabile, di qualcosa di irrealizzabile. In realtà è proprio l'Unione Europea che lo chiede. Pensate un po'. È l'Unione Europea che lo chiede, il blocco navale. E la Meloni dice, è proprio l'Europa che lo chiede, lo faremo, in accordo con l'Europa, una missione europea. Prenderemo accordi con i paesi costieri. Che cosa succede? Che quando parte un barcone, i due stati, quello di partenza e quello di presunto approdo, intercettano il barcone e lo riportano indietro dal punto di partenza. Quindi una collaborazione tra lo stato dal quale partono e quello in cui probabilmente arrivano per fermare questi barconi e riportarli indietro. Quindi quelli che non riescono lo stato di partenza a fermare ci pensa allo stato di approdo che li ferma poco dopo poche miglia e li riporta indietro al punto di partenza. Questo significa il blocco navale. Ma a sinistra vogliono immaginarsi che sia chissà quale mostruosità. Ecco, ho sentito dire cose assurde, col blocco navale che fate. Certo che il nome è un po' altisonante, fa immaginare chissà che cosa, soprattutto a quelli di sinistra che cercano appunto di tutto per costruire questi castelli di sabbia inesistenti realmente. Mentre poi ho visto proprio in televisione che cercano in tutti i modi di far capire che questo blocco navale è qualcosa di irrealizzabile, che assolutamente non è fattibile, quando lo è perfettamente. Come il giochino sul presidenzialismo? Una mostruosità quando era proprio il PD a proporlo. Quindi il PD proponeva il presidenzialismo e il PD con Gentiloni in Europa proponeva proprio il blocco navale che aveva già fatto Prodi nel 1997. Capite quindi che costruzione di balle che c'è su questi temi? Grazie e arrivederci a presto.